In questo video ti spiegherò come confrontarti con una persona egocentrata, cioè che ha una sana e robusta autostima. Prima di proseguire, però, devo spiegarti la differenza tra avere una forte egocentratura e essere un narcisista, perché probabilmente te lo stai chiedendo già. Allora, essere egocentrati vuol dire mettere il proprio ego al centro del mondo, ma l'ego non è una cosa brutta, cattiva e malvagia che dobbiamo scacciare. L'ego sono i nostri bisogni, le nostre esigenze, la nostra volontà, il nostro bisogno di attenzione, il nostro bisogno anche di influenzare gli altri, di imporsi e di emergere nella società. L'ego ha tante cose che sono anche positive. Metterlo al centro del nostro mondo non vuol dire per forza che debba danneggiare gli altri, significa invece che quando io penso ad una situazione, penso ad un contesto, ad un lavoro, ad una relazione, ecco, quello che faccio è cercare di capire in che modo questa cosa, questa esperienza, arricchisce i miei bisogni, le mie necessità, arricchisce da valore a me stesso. Una persona molto, invece, orientata all'altro è una persona che si pone il problema di arricchire l'altro, l'egocentrato si pone il problema di arricchire se stesso. Quindi, cosa significa questo? Significa che una persona egocentrata è una persona che innanzitutto incima la lista delle priorità a se stessa. E a se stessa perché questo ha anche degli aspetti positivi, pensiamo alle forme di sano egoismo. A se stessa perché se non ha energia per se stessa non è in grado di aiutare gli altri. A se stessa perché se non sa provvedere a se stessa non sa neppure provvedere agli altri. Quindi ci sono degli aspetti validi per avere una forma di egocentratura un po' più solida e quindi quello che viene chiamato sano egoismo, che altro non è che una salda e robusta autostima. Che cosa è il narcisismo? Perché anche il narcisista mette il proprio ego al centro del mondo. Ma il narcisista lo mette in modo molto opportunistico, nel senso che il mio ego te lo sparo in faccia. deve essere l'unica cosa importante. Faccio di tutto per provvedere ai miei bisogni, alle mie esigenze, indipendentemente da quello che può succedere agli altri. Chi se ne frega delle conseguenze. Una persona egocentrata ha la dimensione morale ed etica molto presente. Una persona narcisista no. Il narcisismo, ricordiamocelo, è una risposta ad una ferita interiore. Quindi questa ferita interiore, quando siamo feriti, ovviamente abbiamo delle reazioni piuttosto aggressive e non ci poniamo il problema dell'altro. Ora, veniamo a come confrontarci con una persona che è egocentrata. Abbiamo a che fare con qualcuno che è molto sicuro di sé. Quindi come possiamo convincere questa persona, per esempio, che la sua idea non è corretta? Una persona che è orientata all'altro è una persona che tenderebbe a mettere in evidenza le esigenze altrui, l'utilità sociale, l'empatia, questioni che hanno a che fare con le relazioni. Una persona che è molto egocentrata è una persona che dice «sì, ok, tutte queste cose sono giuste, ma a me in che modo questa cosa mi aiuta?» Perché deve aggiungere valore a me. Quindi se lo vuoi convincere, se la vuoi convincere, devi trovare il modo di fargli capire che quella cosa aggiunge valore alla sua persona e non che quella cosa è utile per qualcuno o per gli altri. Cioè, la prima conseguenza deve essere aggiungere valore al suo ego. Ecco, un buon modo per convincere queste persone è quello degli esempi e dei controesempi. Cosa significa? Magari possono svalutare un certo tipo di comportamento e tu puoi portargli come controesempio qualcuno che è di successo, che ha un forte ego, una forte autostima, che è una persona molto egocentrata e che ha un comportamento esattamente opposto a quello che dice, cioè un comportamento che lui o lei critica. E quindi fargli vedere che ci sono persone che hanno quella caratteristica e che sono persone che effettivamente però si comportano nel modo in cui critica. La disconferma su qualcuno in cui si riconosce è molto importante. Cioè, tu porti un esempio in cui io egocentrato mi riconosco perché riconosco che quella persona ha delle caratteristiche simili a me e si comporta nel modo in cui io critico. Ed è una persona che magari non mi piace, però effettivamente è di successo. Ecco, in questo caso io ho un controesempio efficace che va a stimolare la mia leva perché comincia a pensare ma se hai aiutato quella persona allora potrei sbagliarmi. Altra cosa, portare l'esempio. Cioè, guarda, io ti propongo una cosa e ti porto accanto alla mia proposta l'esempio di qualcuno che va in quella direzione, che si comporta in quel modo. Qualcuno egocentrato, qualcuno di successo in cui questa persona quindi potrà riconoscersi e potrà anche vedere un individuo che oltre ad essergli simile e anche un comportamento che potrebbe aggiungere valore a lui o a lei e tu devi portargli però questo esempio. Vai dallo psicologo? Ecco, l'esperienza di Mike Tyson che va dallo psicologo, l'esperienza di un atleta importante che va dallo psicologo, l'esperienza di un manager che racconta di andare dallo psicologo, ok? Ecco, cioè, e far capire quanto è importante, quanto può essere utile quel tipo di esperienza nella vita di una persona perché arricchisce e aggiunge valore. Quindi questo tipo di comportamento, questo tipo di stile relazionale è più impegnativo perché le persone egocentrate sono più impegnative, ma è estremamente efficace con queste persone perché smetteranno di svalutare l'idea altrui perché non trovano le giuste motivazioni. Si identificano con un personaggio comunque di sana e robusta autostima, molto egocentrato, di successo, e che cosa fanno? Cominciano a dire, ok, questa persona ha delle aspetti molto simili a me e ha fatto quella scelta. Potrebbe essere una scelta utile anche per me e iniziano a pensarci. Evita di volerli guidare o persuadere in tutti i processi di pensiero perché non gli piace, non gli piace essere controllati, non gli piace essere guidati, non gli piace essere persuasi, non gli piace essere troppo influenzati, anzi gli dà fastidio. Ecco, quindi, quello che devi fare è inusitare il dubbio tramite un esempio e dici, guarda, quella persona lo fa, una persona che tu potresti stimare e lo fa. Potrebbe essere utile anche a te? Ecco, lascia poi che facciano da soli. Fammi sapere se questo video ti è stato utile, se è interessante, se vuoi che approfondisca alcuni argomenti.